allora è in atto questa nuova questo nuovo challenge no lo sai cos'è il challenge sono queste sfide insomma che si lanciano i VIP Javier Zanetti ex capitano dell'Inter attualmente vice presidente Merazzurro ha lanciato con la sua fondazione Pupi una sfida che a molti ricorderà l'ice bucket challenge in questa estate ricordi le secchiate in questo caso invece che bisogna fa bisogna mangiarsi un peperoncino crudo intero poi qualcuno poi caccia pure un po' le sordi infatti ci arriviamo allora dopo che ti mangi questa cosa intero e ti riprendi poi chiaramente fai un bonifico che il minimo lui dice il minimo però noi speriamo insomma che questi VIP facciano un po' di più è due euro veramente voglio dire questo per la gente comune che magari manda il messaggio esatto quindi niente noi adesso lanciamo anche noi lo faremo anche noi e il tempo dei rimediati un peperoncino insomma lo facciamo è bene che tu mangi in diretta il peperoncino poi se qualcun altro lo fa noi ti aggiorniamo insomma ci manda il suo riflesso firmato noi lo pubblicheremo e se anche qualche altro vip lo fa noi lo diremo insomma che lo sta facendo ma ha nominato buffon ha nominato buffon benissimo a presto ciao